Benvenuti cari follower. Prima di entrare nei dettagli ho una semplice richiesta da parte tua. Vogliamo che questo video raggiunga più di mille mi piace perché il canale sta gradualmente scomparendo. YouTube non suggerisce più i nostri video ai follower, pertanto abbiamo bisogno del vostro supporto per ottenere il maggior numero possibile di mi piace per questo video, per sbarazzarci di questo pericolo. Grazie a tutti. Quindi una bomba polare molto enorme raggiungerà l'Europa meridionale entro la fine di questo mese. Ottobre 2024. Questa massa molto fredda entrerà probabilmente in Italia negli ultimi giorni di ottobre e aumenterà di forza durante i primi giorni del prossimo novembre, con una forte ondata di freddo e gelate. Sulle Alpi e sugli Appennini sono cadute grandi quantità di neve. La neve cadrà sul nord Italia, al centro e in diverse zone del sud, con clima molto freddo e temperature sotto lo zero. La neve cadrà a quote medio-basse. L'aria molto fredda dominerà tutta l'Italia, soprattutto nei primi giorni del prossimo novembre, dove potrebbero cadere abbondanti nevicate in diverse regioni d'Italia. Si diceva che negli ultimi giorni di ottobre arriverà l'aria fredda, ma dal primo novembre inizieranno le tempeste di neve. Le tempeste di neve saranno più forti sulle regioni Valle d'Aosta, Trento Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana Marche, Umbria, Abruzzo e varie zone dell'altopiano meridionale. Lo spessore della neve previsto varierà dai 10 ai 100 centimetri. Finora queste aspettative sono stabili al 75% e rimanete sintonizzati per maggiori dettagli nel prossimo video, quando il periodo si avvicina.